ZU dal dottore Oggi ZU è preoccupato. Poc, il suo piccolo amico, sembra malato. Tossisce, starnutisce, non sta bene per niente. Non è niente di grave, piccolo ZU. Porteremo Poc dal dottore, per curarlo meglio, dice la mamma. Ma al momento di uscire Poc sparisce. ZU, hai guardato dappertutto in casa? chiede la mamma. Vado a vedere in giardino, dice ZU. Poc, dove sei? grida ZU. Ah, ecco Elsie, la sua amica che ha il giardino vicino. ZU le spiega che deve portare Poc dal dottore, ma che non lo trova più. Sarà nel tuo baule dei giocattoli e il suo nascondiglio preferisto, dice Elsie. Anch'io sono andata dal dottore per farmi vaccinare e oggi pomeriggio tocca a te. Oh no! ZU si era completamente dimenticato del vaccino. Non sarà una puntura, spero, dice ZU sottovoce. Elsie è indovinato. ZU ritrova il suo amico nascosto nel baule dei giocattoli. ZU, Poc, venite, è ora di andare, li chiama la mamma. Ma questa volta ZU e Poc sono d'accordo. Di andare dal dottore non se ne parla. Mamma, non voglio andare dal dottore. Ho troppa paura delle punture, dice ZU tremando. Non c'è motivo di avere paura, ZU, dice la mamma con la sua voce dolce. Andrà tutto bene. E ora andiamo. Nella sala d'aspetto ZU e Poc attendono il loro turno. I due amici non sono proprio tranquilli. All'improvviso si apre la porta. A chi tocca? Chiede la dottoressa. A noi, risponde la mamma. Oh no, mormora ZU, di già? Appena entrati, Poc si posa sulla mensola più alta. Povero Poc è terrorizzato e non si lascia prendere. La mamma spiega a ZU che ora lui è grande e deve farsi visitare per primo, così Poc non avrà più paura e si lascerà curare. ZU esita un po', ma è una piccola zebra coraggiosa. Finisce per accettare anche se per lui è una grande sfida. ZU sale sul lettino e tiene forte la mano della mamma. ZU, lo sai che il vaccino serve a proteggerti dalle malattie? Spiega gentilmente la dottoressa. Poi la dottoressa gli fa la puntura e mette un cerotto sul braccio. Hai sentito male, ZU? No, non ho sentito niente, risponde ZU sollevato. Per ricompensarlo, per essere stato coraggioso, la dottoressa gli regala una medaglia. Wow, guarda Poc, con la mia super medaglia e il vaccino ora non ho più paura di niente. E soprattutto non ho più paura del dottore. Fine Grazie Grazie Grazie